Un saluto come state ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella, numerosissimi, indosso la maglia di una storica finale con anche la dicitura, la trovate qui sotto sul sito che vi metto in descrizione, utilizzate il codice AL15, avete il 15% di sconto, ancora per pochi giorni, quindi fatevi o fate un regalo, ci sono tutte quelle vecchie ormai introvabili, quella di Kaka, quella di Marco Van Basten, ce ne sono tantissime vintage, utilizzate il codice AL15. Sono fantastiche questa maglia importantissima, fatevi un regalo con il codice AL15. Allora ragazzi, news importanti, perché ne parlavo questa mattina su Milanello, ho trovato in giornata ulteriori conferme sul fatto che, ragazzi, Fonseca, non dico che debba guardarsi le spalle, ma debba guardare avanti con attenzione, perché la sua posizione, io dico finalmente, è davvero in discussione. Con la società che è delusa da Fonseca, ritiene che questa squadra sia una squadra forte, sia una squadra costruita per vincere lo scudetto, che se oggi non sta vincendo, non sta lottando per lo scudetto, è perché sì, ci vuole tempo, ma il tempo è esaurito per Fonseca, e perché il fattore tecnico evidentemente non è riuscito a incidere positivamente, ma negativamente. Dei distinguo importanti, che aprono finalmente a scenari, io dico finalmente perché per me questa è una cosa che dovevi affrontare già molto prima, meglio tardi che mai, sperando che non sia troppo tardi, qualora le cose proseguissero in maniera negativa. Addirittura io vi dicevo nel video di questa mattina, 4-5 partite, da quello che trapella sarebbero importanti già le prossime due, e forse decisive, cioè Empoli e Atalanta. C'è una lente di ingrandimento su Fonseca già in queste due partite qui, già, doveva essere già prima. E se lui sbaglia, rischia di essere mandato via dopo queste due partite, ripeto, Empoli e Atalanta. Quindi la gara di sabato e la gara di venerdì sprossimo si giocherà di venerdì, prima dell'impegno poi in Champions. Attenzione, al momento non c'è un nome del sostituto che sta circolando. Se il Milan vince con l'Empoli bene, si va avanti. Se il Milan non vince con l'Empoli, occhio, e se poi non va bene con l'Atalanta, quel punto può essere davvero il momento decisivo per il cambio. Ditemi voi che ne pensate, sul post poi eventualmente si vedrà. Io spero che il Milan vada bene, ma io spero anche che Fonseca non sia pieno di attore del Milan, proseguendo male. La consapevolezza che forse hanno sviluppato e maturato è doverosa, tardiva, ma doverosa, con la notizia importante che Fonseca, se sbaglia, questa volta rischia di saltare davvero, cosa che non è successa prima. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, guardate il sito qui sotto, fatevi o fate un regalo, codice L15 per il 15% di sconto, ancora per pochi giorni. Un abbraccio, commentate!